Se nessuno si farà sentire, se domani non avremo un appuntamento con il governo Draghi, lunedì torneremo a Montecitorio e porteremo lì 20.000 persone. Se non ci saranno nuove soluzioni dal governo, sono pronte a tornare a Roma il prossimo lunedì alle 15 ristoratori e commercianti che lo scorso 6 aprile si sono radunati davanti a Montecitorio per chiedere la riapertura delle attività commerciali chiuse con la pandemia. Nell'arco della manifestazione si sono verificati anche degli scontri in cui sono rimasti feriti due agenti della polizia. Abbiamo ottenuto un incontro con la maggioranza, secondo il PD, tramite il senatore Fiano, che con una delegazione di Fratelli d'Italia. Ci hanno promesso entro 48 ore un incontro per stabilire una roadmap. Noi chiediamo di sapere esattamente quando saranno legittimate le riaperture delle attività economiche, ma non soltanto attività come la mia, quindi come bar e ristoranti, ma anche per quanto riguarda le palestre, il mondo dell'esport. C'è anche chi dice che le vostre proteste rischiano di essere strumentalizzate da forze politiche. Che cosa risponde a questo? In realtà è vero che 5.000 persone, magari 50 o 100 filtrati c'erano, questo è chiaro e evidente, per gli scontri che ci sono stati. Ma è anche vero che le TV hanno trasmesso quei 20 secondi di parapiglia e non le tre ore di manifestazione pacifica che ci sono state. Abbiamo visto che dal punto di vista economico, per quanto concerne i ristori, il governo ha fatto poco, davvero poco. Draghi ha fatto peggio di Conte. Non si tratta più di una protesta fino a se stessa, come potevano essere le riaperture simboliche, quelle fatte il 15 gennaio. Ma si tratta di pura sopravvivenza. Ripeto, a Roma c'erano 5.000 famiglie, 5.000 mamme, dei bambini, persone che piangevano perché non possono pagare le bollette e non possono più attendere. Abbiamo visto che le varie associazioni di categorie e sindacati non si muovono o comunque non riescono ad ottenere ciò che ci serve e il popolo sta smuovendo un po' le acque.